Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come Albano non può che essere pieno di gioia a causa di un fantastico ritorno, tanto aspettato ma che nessuno avrebbe potuto immaginare La decisione di questa persona molto vicina ad Albano non potrà che cambiare la vita di entrambi Una decisione tanto attesa da Albano.Albano è uno dei personaggi del mondo della musica italiana più amati nel mondo Il suo successo si deve anche alla sua ex moglie, Romina Power, compagna anche sul palco scenico Da lui ha avuto quattro figli. Nonostante la separazione, i due sono tornati insieme sul palco per la gioia dei fan e per continuare la loro carriera musicale Ora, lui è legato a Loredana Lecciso da molto tempo ma non ha mai scelto di sposarla, nonostante abbia avuto dalla donna due figli e stia con lei da 22 anni Albano vive a Cellino, in Puglia, dove ha un agriturismo e cura delle vigne producendo lui stesso diverse tipologie di vini che commercia La residenza di Albano, nelle prossime settimane darà di nuovo il benvenuto ad una persona molto importante per il cantante Chi tornerà a Cellino? Stiamo parlando di Romina Power che tornerà a Cellino San Marco Le cause della decisione sono state confessate dalla stessa cantante a Silvia Toffanin, durante la trasmissione Verissimo Romina ha negato fermamente il suo ritorno di fiamma con Albano ma, a lui, è rimasta tuttora molto legata, non solo perché padre dei suoi figli Nel salotto di Verissimo, la cantante ha confessato di essersi dovuta sottoporre ad un intervento al ginocchio Da allora, non ha recuperato ancora completamente la sua funzionalità Tant'è che ha deciso di tornare a Cellino San Marco, in Puglia affermando alla conduttrice Non mi aspettavo questa domanda da te. Mi sono innamorata della terra, della luce, sono fedele a L luogo, alla Puglia Anche se, in quel paese, c'è sempre la nuova compagna di Albano che, sebbene l'abbia sempre provocata, la Power ha sempre scelto di replicare in modo divertente o da gran signora La Power, a differenza dell'ex, non ha mai portato alla luce del sole, se ce ne sono state, nuove storie d'amore Anzi, alla Toffanin ha detto di essere diventata sempre più esigente e di accettare sempre meno le corti di svariati corteggiatori che ancora ha Sembra che nel cuore della cantante ci sia posto soltanto per la sua numerosa famiglia e nipoti Tutti insieme sono una squadra molto forte e ricca di sentimenti da difendere Cosa ne pensi delle notizie di cui sopra, ti preghiamo di mettere mi piace e commentare la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale per rimanere aggiornato sulle ultime novità Arrivederci, ci vediamo al prossimo video